Salve gente! Anche questo weekend sarò via per una gita fuori porta. Non so di preciso dove sto andando perché questo viaggio, questa uscita non l'ho organizzata io, ma un'associazione di amici che mi ha chiesto una mano per questo fine settimana. Andiamo! Siamo arrivati a Baiso. Baiso, giusto, giusto. Questo paese dove oggi si terrà, oggi questo weekend si terrà la rievocazione. Ha un nome particolare questa rievocazione? Cena coi bizantini. La tavola di Bizanzio in verità. La tavola di Bizanzio a Baiso. Siamo stati accolti con delle birre e stiamo proseguendo con ulteriori birre. Mi pare giusto. Sì ma questo è risaputo. Con soda dai siamo così, siamo passati alla Radler dai. Siamo passati alla Radler, abbiamo abbassato l'alcolemia, non va bene questa cosa. Dopo stop. Bene, quindi programma per la giornata? Picchiarsi, bere, picchiarsi e bere. E mangiare. E mangiare. Ok, interessante. E' una rinforzata. E' un'altra rinforzata. perché in battaglia siamo stati valorosi, ma oggi e domani lo metteremo a prova. Su un applauso! Ci combattendo solo col cuore, ero buttati di una grande forza fisica, ero più alti e più prestati nel minutino, ma non avevano disciplina. Fermo, Barfusus! Se questo è un dato, si è un dato. Mentre, Marius, devo dire che sei abbastanza hable. Su! E due! Buongiorno, mi trovo ancora qui a Baeso. Ieri la revocazione è andata molto bene, ci siamo dati qualche pacca, abbiamo fatto un po' di scena, abbiamo fatto un po' di spettacolo, quindi non male. Il programma per oggi è praticamente lo stesso, ma la mattinata dovrebbe essere un po' più tranquilla, il pomeriggio e la sera torneremo a darcela, a fare un po' di spettacolo. E poi, in serata, si torna a casa. Il paesino qui è molto caratteristico, molto particolare, in mezzo alle colline dell'Emilia Romagna. Molto carino. Ma non c'è molto da dire, quindi proseguiamo con questa giornata. Eh sì, ormai lo sapete, la mia voce al mattino è questa. Sì, ormai lo sapete, la mia voce al mattino è questa. La Repubblica, a voi preferita. Non siamo visto, il bifantino Lucera. Eccoci qua, sono le 4 del mattino e sono appena rientrato da Baeso. È stata una bella esperienza, ci siamo picchiati, abbiamo bevuto, abbiamo fatto casino, ci siamo divertiti, quindi direi ottimo. Non mi resta che ringraziare gli Invicti Lupi per avermi dato la possibilità di essere uno dei loro per il weekend. E beh, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sono questi riavocatori brandinati. Minchia, oh che pigna in culo!